musica 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 are the tube del convento di l'onato con loro stasera i ragazzi che vengono da dove venite? da dove venite? non ho capito niente verona da verona verona ok aspetta che a lui mi sembra uno qualificato per dirlo da verona e do maiala ecco verona e do maiala verona e do maiala c'è maiala in mezzo? no? sempre e la maiala c'è una maiala qui in mezzo c'è una maiala allora incredibile attenzione ragazzi chi riesce a trovarla visto che è molto amica questa ragazza ti vuole molto bene la ragazza come si chiama quella ragazza la romina la Cristina la romina la Cristina e l'altra ragazza Irene 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 detta nene no Irene detta rene nene comunque Irene detta lene la tua amica Cristina ti vuole un gran bene vedrai nel video e ti stima tantissimo soprattutto va bene ci sono due che stanno limonando la dietro ah no attenzione che è intervenuto subito il ragazzo di provincia di Maiala ecco torna mi baffo torna torna il baffo il baffo il baffo che è Zorro questo Zorro sulle montagne russe aspetta che è intervenuto uno anche da dietro cos'è che c'hai te? che c'hai la spada? no niente ok quindi ci sono tutti abbiamo Zorro abbiamo la Maiala qua in mezzo i due limonatori lì boscaiolo qua in mezzo c'è tutto c'è tutto ok siete un bel gruppo e siete qua per cantare o per festeggiare e cosa si festeggia stasera? la cena di classe perché voi siete la classe 87 la classe 87 di Verona provincia di Verona esatto ma dove è Aiala? andiamo a Aiala va bene tu sei ripetente i due limonatori sono stati anche bocciati tra l'altro ok perfetto e ci tiene anche a dire che fai aria attenzione fai aria Zorro stai su Zorro Domegara 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 così sei svegliato Zorro va intermittenza alle due di notte lo trovi ancora che fa così Domegara Domegara va bene va bene ricordatevelo va bene va bene però siamo pronti per cantare? siiii siete carichi? siiii la 77 di Domegara è carica? siiii e allora vai buoni o cattivi va bene tutto va bene tutto no? siiii va bene su Domegara su Sembra che non sia sforzibile dimenticarsi di sé E giudicandosi ognuno con gli altri Convincendosi che non si sa lo sanno Buono o cattivi, non è la fine Prima se è giusto o sbagliato Vado a trattare e a sopportare Può fare finta che non ci sia niente Anche quando il tremolo ha le gambe Sembra che non sia possibile dimenticarsi di sé E giudicandosi ognuno con gli altri Convincendosi che non si sa lo sbagliato Voglio cantire, non è la fine Prima se è giusto o sbagliato Non sopportare, non sopportare Oggi, non sopportare, non sopportare Non c'è un carico, non c'è un carico, non c'è un carico. Corio Castillo, non è la pista Prima c'è giunto sbagliato Quanto a portare, non è la cosa Corio Castillo, Corio Castillo, Corio Castillo Corio Castillo, Corio Castillo, Corio Castillo Corio Castillo, Corio Castillo Corio Castillo, Corio Castillo Eccole qua, la classe 87 della gara Ragazzi voi siete talmente avanti che anticipavate le stoffe Proprio una cosa pazzesca Poi c'è stato Zorro che ha avuto dei problemi di stabilità Tutto è stato controllo, tutto è stato controllo Per fortuna tornate, tornate che facciamo il saluto finale Fermate Zorro, sennò quello non si ferma più Attenzione, attenzione, guardate questo Ok, ok, voglio vedervi tutti vicini Ok, piegati in avanti ragazzi, pronti Classa 87 di Dona e Gara Corio Castillo Corio Castillo